è più facile fare quel mestiere adesso infatti non ci sarebbero così tanti dj una domanda per richi leroa se posso rimpiangi un po il tempo dei dischi del mixaggio col vero vinile perché adesso si vede tanti dj che hanno un computer e basta essenziale che usano trattare l'autosync alcuni infigiano solo play e basta questo non lo so non lo voglio dire però ce ne sono anche che prendono anche un sacco di sordi a volte mi capita di vedere dei tiktok dei video dove veramente vedo hanno un computer neanche lo toccano quasi guardano non si vede più quel dj davvero con i dischi che fa quel mixaggio ora lo fanno tutti portati dall'altra parte del mondo portati dietro una scarrellata di vinili già oggi è un ammattimento portarsi però era bella quella roba era bello era bello lavorare cioè il dj è nato col vero quindi l'altro ieri ho suonato con ralph e ralph mette ancora qualche disco io sono sincero sono pigro e quindi questa tecnologia ti ha aiutato la tecnologia ha meritato molto mi ricordo al tempo 4 5 bauli di dischi portati avanti e dietro sui aerei a livello tecnico rende anche la vita più semplice è più facile fare quel mestiere adesso infatti non ci sarebbero così tanti dj no questo è un aspetto importante c'è lo sdoganamento del dj mi stavi dicendo la porno star il pilota di formula la barriera d'ingresso è bassissima perché oggi oggi la fruizione del mixer è diventata facilissima per tutti e anche la produzione perché la produzione oggi con un computerino te fai un disco fai una traccia non occorre stampare quindi non occorrono soldi da investire ma basta pubblicarla su uno dei portali diventato quindi oggi la merda è infinita prima la selezione era naturale a perché i dischi andavano comprati b ma andavano saputi mixare senza i controller senza quelle che ti fanno fare da solo in automatico terzo se volevi fare un uscita ti frugavi perché dovevi stampare i vinili sperare di venderli se non avevi rimesso soldi si può dire però oggi più difficile emergere perché ce ne sono troppo è un concetto collegato cioè concetto collegato è anche qui è poi in realtà è uguale in proporzione perché oggi ce n'è di più mai più strumenti per farti conoscere pensa ai social bravo vero prima ce n'era meno ma se te non eri resident in un locale bomba rappresentativo che non uscivi dal buco cioè è sbagliato dire che prima emergevi più per la bravura adesso più per il personaggio che crei marketing anche oggi devi creare più un brand che essere bravo oggi contenitore questo vale credo un po per tutto conta un po più del contenuto però io sono non sono un nostalgico e non voglio che passi questo questo messaggio io credo che chi arriva è sempre bravo perché c'è la qualità è sempre bravo la qualità può essere poi sul disco bomba o può essere su un x factor una mediaticità che ha cioè le strade per il signore sono infinite però se arrivi e vivi e scusami e grazie alla musica tu vivi vuol dire che in qualche modo la tua strada l'hai trovata non stare qui a fare era meglio prima era meglio dopo ovvio che prima il vinile ti guardava negli occhi non c'era la facilità di adesso che ora ci sono tutte le cose tecniche tecnologiche che ti danno la possibilità anche di non sbagliare però poi alla fine vengono fuori ora metti a tempo con un bottone prima devi abbassare però in console ci devi sapere stare infatti stavo arrivando lì è molto più semplice ora secondo me da ignorante dei social è molto più semplice farsi vedere da tutti però poi alla fine quando stringi 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 ci vuole la qualità devi far divertire la gente se no guarda marco pensa una cosa questa è una cosa che ogni tanto a lui l'ho detta ci credete che lo stesso la stessa traccia la stessa traccia quindi è un mp3 suonata da ricky cioè sta suonando quel disco e c'è ricky che è in console la stessa traccia suonata nello stesso club allo stesso orario quindi già mixata non ti parlo di come è entrato della tra me la stai ascoltando con un altro il disco è diverso hai pienamente ragione quindi i fattori sono tanti no sì vero ma non perché sono io no 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 però a me me lo fa anche con te io quando vado a vedere ricky vado a vedere l'emozione che ricky dà e di conseguenza il disco bomba che mi mette mi trasmette un'emozione è folla che è quello che i nostalgici hanno vissuto emozioni e ancora adesso e ancora adesso le sentono sentire un disco vecchio ti va a vedere ancora la pelle d'oca di fatti e dalle nostre parti ancora ogni tanto si vede la macchina con lo stemma del jay e quindi un attaccamento ancora a quelli che furono gli anni io penso che i giovani invece di ora non siano non abbiano più questa non la sentono più quelle emozioni che sentivano ovun è un'emozione che si scopri un'emozione che r colors hanno messo per avere le mie amici ma